dei suoi organizzatori, del club, stile per appunto. E' la prima volta che vengono qua a vedere il nostro uno, comunque ci conosciamo tra l'altro Facebook, altri attuni, i canali che ci siamo visti, mi hanno detto che vengono tornati per vedere un po' la nostra manifestazione che hanno sentito. Dimmi cosa rappresenta Alfa Romeo nella tua vita di tutti i giorni e come vivi la tua passione? A che cosa significa? Vi spaventare un'istico, un'istica, 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 un'istica che non sappiamo. Chci, ci sono un'istica che molto più di di stagione. Per lui l'Elto Romeo è amicizia, stare in compagnia, vedere tutti i vari club, la Croazia, Slovenia, Bosnia, Austria, Italia, tutti insieme che stanno qua a divertirsi, a stare in compagnia. Bene, intanto ti ringrazio per questa breve vista, ti auguro una buona giornata, nel corso ci andremo tanto a rivedere.